Su CardTrader potete trovare tutte le carte che volete dei vostri giochi di carte collezionabili a spedizione gratis, esatto, spedizione 0, completamente gratuito con un nuovo servizio e in descrizione trovate il link d'accesso che con la registrazione vi consente di avere un bonus d'accesso speciale Ecco della The Grado Family in compagnia di Trinky E oggi facciamo una partita a formato Edison, io userò il Light Swarm, fedele della Lust Modificato non è quello della Declist, ci sono delle modifiche che adesso magari vedrete e invece Trinky userà il Drago, Disaster Dragon, che è quello della Declist No, è modificato anche questo Vi spiego, il 2.0 abbiamo creato, no in realtà è merito solo dei Trinky Meglio delle 3, tiro dal 5 5 Dal 6 2 Inizio io, ne sto rimarando sull'1 Perché c'è il Baby Flam Il Baby Ehi Baby Ehi Baby Ehi Baby Candotta Ehi Baby Candotta Ehi Baby Candotta Ehi Baby Ehi Baby Ehi Baby Allora vado, inizio Il Sarcofago d'oro Perfetto Sarcofago Rimuovo Drago del Giudizio Già per il primo turno quella è tanta roba Sì Devo, con truppa della carta, effetto truppa della carta, Malcino 3 VAMONOS a WIZZAT CITY Completamente inutile E vai PAS Assurdo La sfiga è qua E intanto sentiamo la musica jazz che ci accompagna Questa fantastica sessione di gaming Sessione infernale TAC Va bene Entri in deck Eh lo sa che è già finita la deck Non so eh Siete cosa ne dici Vai Che cosa è che non posso evocare gli oscuriti No ti devo rivelare un coso Cos'è che fa che non si può evocare Nessun giocatore può evocare mostri Luce e oscurità Buono Ve lo è specialmente Buonissimo Sì normalmente sì Quindi neanch'io ad esempio posso evocare questo in questo momento Siete dai Siete dai Siete sei un ol'ico Siete dai Siete sei un ol'ico Siete sei un ol'ico Shino! Attacco Perfetto, sporco E bacilo 3 Ma porco Non so se si vede questa parte Sì, sì Ti dico di sì Eh, ci ho guardato Main case 2, perché su questo gioco si può fare E può prendersi la rivisita Ah, porco Giuda, puttana Pesco, questo viene in mano Attivo ricarica solare Costo Pesco 2 E mando le prime nuove E vuoi prenderlo in mano? Sì Sicuro Allora Dottor Pincis Guarda che cazzo di mossa mi tocca fare Per sbrogliare quel drago qua che mi ero di mezza Allora, attivo un mostro reincarnato Scarto zombie autore Riprendo Ricco Vai San cazzo Brava Non so Non te lo dico che carta è Eh, è male Volevo sapere E poi Sì Non so Non so Non so Non so Non so Non so Ma è Nega 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 Si Dottor Nega FRA Volevo sapere Volevo sapere Volevo sapere Volevo sapere M2 Non l'hai immaginato Quanto è? Rappo Volevo sapere Volevo sapere Volevo sapere Volevo sapere Sede Poi Attivo l'effetto Pago mille Troppo forte Gitti Cazzo Tutte? Non sono le tue? Sì È mille Sì Sono un coglione Ok Volevo Devo Devo Settare Evo Acro Attacco 1.2 E Attacco 3.000 Passo Devi macinare 4 4 più 2 Prendo Credo che questa L'acine 2 Sì La 1 2 3 4 E 2 Di Arcus 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 Pesco Si Poi Inutile adesso Allora Te quanto ti sei? Sì 5.600 Dimmi che sbagliati Dimmi che sbagliati Dimmi che sbagliati Mille Sì Sì L'avevo già segnato Avevo perso il 1.5 della differenza tra il drago e il truppo della carta e poi il mille è pagato Non scappi dal registro Non scappi dal registro Beh tra i yard c'è anche il registro Si è per quello che hai fatto bene Dimmi che giochi a Ubi senza dimmi che giochi a Ubi Cos'è? Stai mai fisico? No No Mami fisico Entro in draw Pesco Esco in draw Entro in draw Mentre in draw Pesco in draw Faccio draw Ogni cosa Se mi rendere vorre Posso prendere quello Spaccare tutto E poi però Adesso ti ritorno Ah io l'ho perso C'è 5.500 fottutissimi i lifepods Dai 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 Entro in draw Pesco in draw Allora Fattivo ondata gelida Per essere proprio sereno Pesco forte per la che parte Poi evoco l'ila Perfetto Sbarco 2.100 attacco il mostro coperto Ok 3.000 attacco E anche attacco Ok Ma no Pago Ili Sì Dai Dai Ok Si può Sai dare Attenzione Fammi togliere La merda Aspetta Neanche io voglio Si Sì Vabbè Non farmelo vedere Vabbè Vabbè Camenza All'avversario Vabbè 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 Non Ma questo non lo metto Ma Le metto qua Così io non faccio del casino non lo so io non sai da altro mi raccomando vi ricordo se vi servono delle carte link in descrizione per ricevere un bonus di 2 euro su card trader perché noi della family ci siamo siamo al top delle sponsorizzazioni migliori di tutta l'età non saremo felici finché non riceveremo quella mail da barilla dateci la pasta fateci campare di quello vogliamo una scorta vita di pasta barilla per favore barilla per la famiglia frigo barilla frigo barilla merda hai rifatto il basso ma legge quanti invece i dati per avere un evento 4 anche perché non sono tutte fondamentali voi caccia lo stesso arrivano anche una questa ci sta un botto non è già mischiato no due secondi da le due io hai già mischiato tanto l'ho fatto io ho già pescato Comunque ragazzi se volete sapere un po' le modifiche del mazzo guardetevi il video, se non l'avete visto recuperatevi i video degli hacklist scorsi mi raccomando, supportiamo il formato Edison per favore perché è un vero gioco. Il ruling è uno dei peggiori mai visti, però almeno i turni non durano 50 anni e non è come il video di adesso diciamo, ha interazioni ed è giocabile, con l'attuale non puoi fare un cazzo. Non è magari come il GOAT che fai tre cose, ci sono cinque carte, tutti i mazzi sono uguali, in questo c'è un po' più di varietà, un po' più carino da giocare, poi ci sono i mazzi OP tipo la lanera, però vabbè comunque non vince sempre, è più facile vince. Quindi supportiamoli in modo tale che i negozianti facciano tornei anche in questo formato visto che è poco valutato diciamo. Allora pesco perché gioca così non posso farci niente. Se conoscete la città iscrivetevi anche se non lo sapete. Allora tipo carica della brigata della luce che praticamente mando le prime tre. E poi aggiungo un FEDERI livello quattro. E poi aggiungo un FEDERI livello quattro. Attivo la ricarica solare, costo, pesco due, mando le prime due, mannaggio, benissimo. Doveva succedere il contrario, ok? Poi evoco Lila, Mottones su posto. E passo. Mai. Pesco e gioco così non posso farci niente. Tolgo un drago e metto un altro. Non pesco il raso. Allora evoco Volumina, Affetto, Scarto Wolf. Può lucare anche l'umore se vuole. Sì, sì, lo so. Grande. E ho comune. Allora. Eh vabbè stavo un attimo guardando le mie possibilità. Attacco mille. E togliamo, è assurdo. Adesso mettere il telefono al contrario ma giustamente dopo non si capisce un cazzo. E attacco 2100. E passo. Assurdo, vabbè. Ok, ok. Entra in there. Ok, entra in there. Ok, entra in there. Ed ecco. Ecco, ecco. Vai. 7 1 Ho tolto un drago, ho messo questo, era una delle side-up comunque, vabbè a parte ridare i life points invece che togli non fa nient'altro, ah con il piazza che non fa nient'altro Attacchi Aspetta, però spacco la trappola, adesso non puoi tirare il drago Non hai ragione, ma se spacco il richiamo del posseduto si spacca anche questo Aspetta, devo immacinare 3 Direi che gira abbastanza dai, non so cosa hai in mano però sembra che gira abbastanza bene Il mio no, però va, mi ammazza così purtroppo, c'è poco da fare Vai Allora, io faccio una cosa di questo tipo, di questa tipologia, che secondo me poi vinco C499, praticamente Ti vuole fare di virus elettrico Porca madonna Ti prendo drag di altissima qualità online Attivo tempesta potente Eh non ti vuole Ok, se era lightning o eh Non so Eh lo so, infatti E poi Evo con l'onesto Tacco È un gioco buono Tacco Lo hai fissuto Lo hai fissuto Lo hai fissuto Eh, era che gira Si Va bene ragazzi, questo era tutto Per il site, per favore Avete ragione Questo era il mio Aspetta, facciamo vedere quello che abbiamo sideato Si, allora io ho segnato due carte Il coso sicuro Il virus elettrico Va bene, l'avevo fatto vedere E il fumine Vortex Bene, va Mi avevo tolto Eh, aspettate un attimo Le ho perso Avevo tolto Wolfer Che dicevi? Allora Avevo tolto questi due qua Questi due sono di Andy Main Ho messo queste due qua Io ho sei dato queste quattro E ho pescato questa La peggiore Sai che è un side Il resto del side Ma Ve lo faremo vedere forse Non possiamo vedere Se fate i bravi E cliccate sul link in descrizione Per iscrivervi a tutti i social E ho tolto E ho tolto questa Per tutte e due E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Grazie Grazie Grazie